A me non sembra... Ah, ecco, appunto, posso dare visione Perché l'obiettivo me lo dava tutto in fuori? Strano Ma questi sono i funghi? No, non sono questi i funghi I funghi magici Ah, eccolo E vabbè E' impazzito E' impazzito Stai cercando di prendere dei funghi e' impazzito Ha cominciato a girare I funghi fanno st'effetto, eh Ha cominciato a girare intorno tutto quanto all'improvviso I funghi fanno st'effetto, lo sai Ti fa girare intorno, praticamente